Oggi parliamo di cucurbitacee, in particolare delle zucche d'inverno. Definite zucche d'inverno perché rispetto alla classica zucchina cucurbita pepo, queste zucche, che sono principalmente delle cucurbita maxima e moscata, vengono raccolte a fine autunno e conservate tutto l'inverno fino all'inizio della primavera per il consumo. Quelle che abbiamo davanti a noi si distinguono per il picciolo. Nella cucurbita maxima abbiamo un picciolo piuttosto spugnoso. Come lo si vede, lo si sente soprattutto toccandolo. Per quanto riguarda invece la cucurbita moscata, abbiamo un picciolo che è molto più angolato e duro al tatto. La zucca lagenaria, che vediamo qui esposta in alcune varietà, è una zucca che come tutte le altre viene seminata o trapiantata in primavera e raccolta poi nell'autunno. È la zucca più antica conosciuta in Europa, perché mentre quelle che abbiamo visto prima, quindi la cucurbita maxima e moscata, sono arrivate con la scoperta dell'Europa, queste sono molto più antiche di origine africana o dell'Oriente. Vengono utilizzate principalmente a scopo ornamentale adesso, ma storicamente erano usate proprio come zucche da contenitore, perché queste zucche una volta raccolte possono essere fatte seccare, diventano molto dure, quindi tendenzialmente hanno un esterno legnoso e all'interno rimangono cave, possono essere usate appunto per contenere liquidi, come vino o acqua, piuttosto che per costruire ciotole o contenitori per gli alimenti. La coltivazione in campo inizia nella primavera, la distanza di impianto più o meno è di due metri tra le file e un metro e mezzo sulla fila. Sono delle coltivazioni abbastanza semplici che non richiedono parecchie cure, soprattutto legato alla gestione delle infestanti ed eventuali alcune malattie fungine che potrebbero svilupparsi. Qui abbiamo una zucca cedrina, così chiamata, che è una cucurbita citrullus ed è una delle zucche che viene utilizzata per fare la mostarda. Non è l'unica perché in varie zone d'Italia, piuttosto che anche d'Europa, si usano zucche diverse. Abbiamo anche quest'altra zucca, che è la zucca cosiddetta confir, quindi da confettura utilizzata molto, per esempio, in Francia. Qual è la caratteristica di questa zucca? Più che caratteristica, magari curiosità, è che aprendola all'interno è esattamente come un'anguria, infatti viene chiamata anche anguria delle scimmie in alcune zone, alla polpa bianca e il seme rosso. Le zucche vengono usate per tantissime ricette, quindi diciamo dalla zucca più classica che tutti conoscono, che può essere utilizzata per fare i tortelli, per fare gli gnocchi, cotta al forno, stufata, quindi in vari modi. Passiamo quindi alla zucca per fare la mostarda. Per fare la mostarda come si procede? Anche qui abbiamo tantissime ricette che dipendono appunto dalla zona, dalle diverse parti, da diverse zone d'Italia e non solo d'Italia ma anche d'Europa. Potenzialmente si prende la polpa, viene fatta sbollentare nell'acqua, questa polpa deve rimanere abbastanza soda, l'acqua di cottura viene utilizzata appunto per essere addensata insieme alla senape e da qui viene appunto la piccantezza della mostarda. In alcuni casi viene fatta anche una mostarda creando proprio una sorta di purea con questa zucca. Altre ricette prevedono l'utilizzo di vino mischiato insieme al miele con l'aggiunta di mostarda, quindi in realtà le ricette sono veramente tante. Si trovano ricette in cui si parla dell'utilizzo anche della zucca da mostarda con la classica zucca che abbiamo visto, quindi curvita, maxima, moscata, quindi in realtà le ricette, la fantasia non hanno veramente limiti.